Buonasera, siamo qui con Marcello Bizzarro, migliore in campo nella partita tra Dragable e XX, purtroppo persa dagli XXX nei minuti finali. Dal 3 a 1 si è passata al 4 a 2 e poi il 5 a 4. Allora, Bizzarri, nonostante la sconfitta migliore in campo, allora per chi? Allora, ho cercato di dare il massimo perché questa è la squadra più forte del torneo, se non la più forte, non le più forti, la fammucca. Di Dragable stai parlando? Sì, dei Dragable. Noi sapevamo già di essere, diciamo, svantaggiati sulla carta, però abbiamo cercato di dare quello che potevamo. Beh, comunque anche alla terza giornata gli XXX continuano a confermarsi una squadra ostica da affrontare. Perché allora, secondo te, Bizzarri? Perché noi ce la mettiamo tutta. Vai, dai, dici, dici. Noi ce la mettiamo tutta. Non riesco a inquadrarlo se inquadro te, perché ovvio lui, ovvio te. Vai, vai, dici. Comunque noi ce la mettiamo tutta. Certo, è difficile perché qua sono tutte le squadre fortissime comunque. Poi tra l'altro di media siete la squadra più piccola del torneo. Sì, sì, siamo anche la squadra più piccola, siamo tutti 92-93. E senti, non per la vittoria, ma per i due gol, a chi me li dedichi? Li dedico uno a Trassari, l'altro alla mia squadra che... Il grande ex assente oggi, ricordiamo. Sì, 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 un infortunato deve operarsi probabilmente. E l'altro? L'altro lo dedico alla squadra che è stata lei a darmi quei palloni, diciamo. Ho capito, va bene. Grazie allora, Bizzarri. Ciao. Ciao.